Pilato e tutti gli altri avevano già deciso dovevano togliere di mezzo Gesù così lo caricano di una croce al tempo di Gesù succedeva che le peggiori persone così ritenute dalla gente venivano eliminate mettendole attaccate a una croce con corde o con chiodi Gesù coronato di spine deve caricarsi la croce attraversare tutta Gerusalemme per raggiungere la collina del Golgotha dove poi verrà crocifisso ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo scusaci Signore scusaci Signore quando ti mettiamo pesi sulle spalle con le nostre piccole cattiverie scusaci Signore quando le nostre lamentele inutili sono come un peso per te scusaci Signore quando appesantiamo gli altri con i nostri malumori scusaci Signore